Restate con... Milan-Sparta-Praga Un appuntamento Forn Sponsor UEFA Champions League Dai vita alle emozioni Acquos, la televisione dei tuoi sogni LCD TV Acquos Sharp In rettilineo La maggior parte delle auto Ha buone prestazioni Ma il mondo non è una linearezza Per questo Audi A4 Ha la trazione 4 Ma il mondo non è una linearezza Perchè ti radi con il trilama e Big Comfort 3? Uno per i soldi Due per il risultato Tre per il comfort delle tre lame Big Comfort 3 Tre lame Tecnologia super scorrevole Banda emoliente Il tutto per una rasatura efficace Con meno irritazioni Big Comfort 3 L'efficacia di tre lame Al prezzo giusto Oh yeah Nuova gamma Opel Fashion Line Niente ti dona di più Quattro modelli con equipaggiamenti e prezzi straordinari E oggi in più finanziamento in quattro anni a tasso zero Visto che qualità Il mio carrello è pieno con soli 30 euro Questa settimana succo d'arancia 100% a 79 centesimi Levigatrice a nastro a 39,90 euro Da E.V. Matiz Soluzione brillante Venite venite Che profumo meraviglioso E beh d'altronde il parmigiano reggiano è assolutamente naturale Fatto con metodi artigianali E senza additivi Perché usiamo solo il latte delle nostre mucche Che non mangiano foraggi fermentati Loro Simpatica però Parmigiano reggiano Non si fabbrica Si fa Alfa 156 Tua da 22.100 euro O da 140 euro al mese Compresi 5 anni di assistenza e riparazione Kronos Kronos Take it easy Nuova Piat Punto Oggi da 79 euro al mese ad interessi zero E diesel multijet da 10.500 euro Alba ci sono i cartoni Felicità E un bicchiere di vino con un panino la felicità Alba e basta Con i film Il tuo mondo è sul telefonino Anche i cartoni animali Anche i cartoni animali Dovore Oggi Grazie.